Giovanni Coutin Sì, sono io Io non ho ammazzato nessuno Tre anni fa, quando lavoravo ancora in banca Ho l'impressione di averla già incontrata Nome, cognome? Non lo so, lo chiamavano tutti professore Mi permetta di fare un brindisi al suo avvenire? No, no, grazie, sono astemio Che c'è? Per la prima volta non mi sento schiacciato da questi sassi da queste dimensioni Vuol dire che è ora di cambiare Si sarà tolto qualche soddisfazione immagino E altro che Qui c'è scritto che hai vinto un sacco di soldi E neanche mi parte a festeggiare Non ti sta impegnando Perché a sedurre una donna sono capaci tutti Ma quando si tratta di lasciarla è lì che si vede il vero uomo Voglio sporgere denuncia per molestie sessuali Atele che hai fatto? Il terroldico del 96 L'ho offerto agli amici Con cosa? Con la pizza Bastardo! Ci pensi bene Quante volte ha desiderato eliminare il problema? Che cosa ha da perdere? Eh no! Non potevo immaginare che lui facesse sul serio Commissario È successo una cosa Guardate Il mondo è ai nostri piedi Non è solo Che cosa ha da perdere? E non aveva un'altra cosa Che cosa ha da perdere? Che cosa ha da perdere?